Quello del 18 novembre si può definire un consiglio comunale delle emergenze e quanto emerso dagli interventi dei vari consiglieri fa capire quanto grave sia la situazione a Nicosia. Nell'aula consigliare si è discusso della soppressione dell'ufficio dell'agenzia delle entrate, della soppressione della caserma dei carabinieri nella frazione di Villador e della chiusura del commissariato della Polizia di Stato. Tanti gli interventi più o meno dello stesso tenore, alcuni polemici nei confronti dell'amministrazione rea di essere immobili davanti a tutti questi problemi. I consiglieri di maggioranza nel pomiglio invece avevano protocollato una richiesta con la quale si chiedeva di convocare un consiglio comunale straordinario nel quale si discutesse il problema della chiusura dell'ufficio dell'agenzia delle entrate. Ad oggi non esiste una data certa sulla chiusura ma solo delle comunicazioni effettuate da alcuni sindacati di base che hanno indicato alcuni dei criteri di chiusura, come al solito il numero di abitanti che serve l'attuale ufficio ma anche il numero esiguo di dipendenti e le pratiche lavorate. La chiusura del tribunale di Nicosia senz'altro ha avuto il suo peso in questa chiusura. La caserma dei Carabinieri di Villadoro chiuderebbe per i costi alti nell'affitto dei locali così come il commissariato di pubblica sicurezza. Problemi a cui l'amministrazione comunale dovrebbe porre rimedio trovando tra gli immobili di sua proprietà delle sistemazioni a basso costo se non a costo zero. Questo quanto sollecitato da diversi consiglieri comunali. È emerso tra l'altro che il sindaco di Troina, Fabio Venezia, avrebbe chiesto che nel suo comune si possa aprire un ufficio di polizia assicurando che le spese siano interamente a carico dell'amministrazione comunale. L'ultimo punto trattato ha riguardato la proposta di delibera da parte del dirigente del settore che si occupa dei tributi comunali, il dottor Giovanni Ricalsi, che consiglia di adottare le tariffe Tarsu in luogo di quelle Tares. Questo risulterebbe possibile in quanto dal prossimo anno la Tares dovrebbe essere sostituita da un'altra tassa in via d'approvazione nella legge di stabilità. Diverse le perplessità emerse tra i consiglieri che non capiscono se questo si tradurrà in un vantaggio per i cittadini o nell'ennesimo aggravio di costi per le tasche dei contribuenti. Per questo motivo la proposta sarà discussa in commissione consigliare prima di approdare in aula.